Allora, dieci minuti ancora per quella che noi vogliamo salutare come la prima puntata con Luigi Coppola qui presente nei nostri studi. Con Luigi e Michela contro la camorra e tutti quelli che la sostengono, un abbraccio a Daniela Roccatelli, un saluto e un abbraccio forte 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 a Giuliano Nevi. Insomma, questo filo di solidarietà, di presenza, di voluta partecipazione della gente è un dato davvero riscontrato ed importante. La situazione attuale di Luigi Coppola, disperato, vivi in macchina, non hai nessuna attività, una famiglia da me. Sì, non ho più nulla, vivo di espedie, mendico. Allora, spendo io 60 secondi, poi ritorniamo da te, parlo io. Pezzo di Saviano, è giovedì, il venerdì successivo a questo intervento ad overtura. Saviano avrebbe presentato il libro, Rita Pennarola ce lo presenta, facciamo sempre i nomi e i cognomi e i riferimenti. Mi incuriosiva il fatto che Saviano avesse detto quelle cose lì che dice in questo momento, il venerdì andai alla presentazione e vedi che era Mondatori Berlusconi il suo editore. Cosa disse riguardo i rapporti della criminalità di alcuni partiti del centro-sinistra con alcuni capi clan del centro storico di Napoli? Saviano disse se in Sicilia vince per merito, lo dice Roberto Saviano, le elezioni nel centro-destra dicono tutti c'è la mafia, se lo vince la sinistra cala il silenzio su questa inchiesta. È Roberto Saviano che parla il giorno prima di presentare Gomorra, seguite con attenzione questo Saviano. Per esempio quando Rosa Russo Iervolino ha denunciato, giustamente, durante le elezioni di infiltrazione dei clan di Gomorra nella gestione del voto e la procura ha fatto parte dalle indagini, hanno scoperto che nel centro storico il voto di scambio era stato gestito da alcuni, ovviamente non vuole criminalizzare il partito, ma alcuni esponenti della Margherita e alcuni esponenti dell'Udefo ed è calato il silenzio. A me dispiace quando una parte politica vince le elezioni, per esempio in Sicilia, allora quindi vince le elezioni, viene detto, non per la mafia, e quando un'altra parte politica vince le elezioni, viene vota in Campania e in Calabria, Andrangheta e Camorra scompaiono. Saviano dice questa cosa qui, per merito, Benedette per merito, insomma con merito, vince le elezioni, Cuffaro, secondo Saviano Cuffaro vinceva per merito, però era Mondadori l'editore, Saviano nega di aver detto questa cosa, poi in un confronto glielo facciamo sentire, dice, ah sì, ma non volevo dire che non l'avevo detto, forse in poco tempo, mi sembra che il tempo a disposizione c'era, la frequenza vocale è assolutamente distesa, nessun tipo di pressione c'era su quella sua analisi, neanche meno da parte nostra. Saviano incontra Coppola, perché quella di Coppola è una storia bellissima da raccontare, che succede? Perché poi? Che succede? Vi incontrate? Saviano mi incontra nel 2007 a casa mia in Pompei, nel luglio 2007, mi viene a trovare e dice che, diciamo, la mia storia era una storia che andava riportata, andava riportata a che tempo che fa e andava riportata sulla carta e rimanemmo che ci saremmo poi sentiti e andando via, purtroppo, mi riqueleranno, andando via Prodi e andato via anche Saviano. Questo, disse, ma sono impressioni di Coppola. Saluto Roberto Rossi, collega dell'Unità. Quale giornale? Unità non fa che riprendere le dichiarazioni di Luigi Coppola. Dice, per convenienza, perché è un organo di partito, è libero che scrive fecciarossa. Solo un cretinetto, ieri il giornale. Io credo che bisogna andare avanti, fare uno sforzo un po' a tutti noi. E dico all'ex sottosegretario, una volta Colombo disse, viceministro, non sottosegretario, ci tenevano, anche al vice, ma che fosse accompagnato dal ministro. Ha querelato il giornale dell'Unità. Luigi Coppola dice molto probabilmente, però ho coinvolto anch'io e la querella verrà estesa a me, non credo, perché l'app. Franceschetti non è detto. Non è detto, può essere, ma forse no. Però facciamo un'altra cosa. L'Unità ha fatto il suo. Coppola ha detto quello che notoriamente non ritrae, né nega, né le discussioni, né le interviste. Sono disperati. Alfredo non hanno niente. De Stefano, che incontra Coppola, gli dice, ma Luigi, diamoci del tu, io e lei, campai e te campani, d'Avellino, ma figurati. Non mi chiamate a me a San Vitale tra dieci minuti, perché ho da fare con l'Elena, dobbiamo andare a mangiare le marmottine che abbiamo ai pratoni del Vivaro. Non possiamo venire tutti i giorni. La richiesta è molto più composta, dignitosa e di grande umanità. Fategli assumere al comune di Pompei. Comusceri. È un esempio importante. Se non va premiato questo tipo d'esempio, in un momento in cui l'esempio si perde nella retorica, nelle ampollose parole, questo è un esempio reale, concreto, di coraggio civile. In un paese normale, cosa che il mondo non mi sembra più essere normale, era al minimo sindacale quest'operazione, perché ha denunciato dei criminali, degli sozzoni. Quindi 50.000 euro di richiesta di Mantovano a Coppola. È una vergogna. Coppola ha soltanto detto che il governo di centrosinistra, magari riducendolo nella sola persona, nella sola persona, nella sola persona di Marco Minniti, no, no Paolo, resta qui per cortesia, nella persona di Marco Minniti, è stato più attento, secondo lui, dell'onorevole Mantovano. Ma le richieste non vengono fatte da un uomo condannato a morte ad un partito politico, ad un esponente di un partito politico, alle istituzioni. Coppola deve essere premiato, e io credo che un posto di lavoro per Coppola, al comune di Pompei, si trova, per quello che ha reso in termini di coraggio, di opportunità, di valore, di contributo, al paese di Pompei, a una provincia, quella di Napoli, a una regione, la Campania, a un paese, a un continente, a un mondo, avvelenato dalle mafie. E ritiri quella denuncia. Alfredo, lei che dà del tuo a tutti quando si viene in ufficio, siete mancati tutti indistintamente, secondo me, in modo vergognoso e colpevole, nei confronti di un piccolo grande eroe, che è Luigi Coppola. Paolo Franceschetti. Bel discorso, David. Volevo dire una cosa. Quando si parla della camorra, ho sentito il discorso di Diana, che diceva la camorra infiltra le istituzioni. Sembra quasi che la camorra sia così potente che ha il potere di infiltrare le istituzioni. Ma no, è un modo sbagliato di porre il problema. Oggi lo Stato, da decenni, lo Stato è così potente che se volesse potrebbe distruggere mafia, camorra e drangheda in pochi secondi. Piero Grasso, il procuratore antimafia, ha detto al Maurizio Costanzo Sciò tre anni fa noi siamo in grado di sapere anche quando i mafiosi vanno al bagno, non hanno più potere di manovra. Una mossa propagandistica era in quel momento perché dovevano far vedere che loro contro la mafia stavano facendo tanto. Di fatto, però, è vero questo. Si potrebbe fare qualsiasi cosa. Il problema non è la mafia o la camorra, il problema è lo Stato. Il problema è sono le organizzazioni segrete massoniche o paramassoniche che stanno al di sopra. Basti pensare che per diventare capo dell'andrangheta, capondrina, credo che si dica in termini tecnici, bisogna essere massone di alto grado. Per essere capo di Cosa Nostra, boss di Cosa Nostra, bisognava, bisogna essere massone. ricordiamo che Totò Riina era massone, che Bontade era massone, che Provenzano era massone, ricordiamo che Monti è massone, ricordiamo che Sarkozy, Bush, Clinton sono massoni. C'è un problema di organizzazioni segrete sopra alla camorra, alla mafia e all'andrangheta, di cui la camorra, l'andrangheta, la mafia sono la longa manus. Finisco qua. Grazie a Paolo Franceschetti, grazie a Luigi Coppola, a Michela, un saluto Michela, fai solo un saluto, solo ciao perché eccola qui la nostra Michela. Gigi, tu torni a trovarci quando vuoi, poi ci risentiamo, ovviamente se Roberto vorrà partecipare la prossima volta ben volentieri a questo, a quello che deve essere un impegno che noi ci dobbiamo, che noi, io mi sono preso con te, ci fissiamo con te e torniamo a parlare. Se posso volevo aggiungere solo una cosa se mi dai un secondo. Io apprezzo il tuo incitamento nei confronti della città di Pompeio o della provincia di Napoli o della regione Campania, ma io dopo tutti, diciamo tutti questi anni, tutti questi eventi, le ultime intimidazioni, la revoca immediata della scorta, il volere istituzionale a cacciarmi via dalla mia città, io sono io che dico non parlo presumendomi di niente, ma sono io che dico che loro non meritano persone come me, a meno che non provino che io sia un delinquente, l'hanno fatto inserendomi un sacco di cimici nella mia auto per dimostrare che io non sono quella onesta persona e mi auguro che non sia partito l'ordine da fonti istituzionali alte, ma io sono io che abbandono quella città consapevole che la Camorra trionferà. E allora in qualsiasi città d'Italia lui, sua moglie e le sue bambine vogliono andare, quelli come Mantovano glielo devono garantire questo permesso, lo merita?